Musica E' accompagnato all'altro da Paeschi, Carlo Maggi e Sergio Cali per la Buccio di Boxing Team, faccio ringraziare la barata, Daniele Buccio Petrucci! Scucetto Daniele Petrucci! Mi ricordo sei round da tre minuti, premissimi per questo accordo! Ciao! E' un buon avuto dal dich acessoyah! Fasciati EH E' la prima ripresa, first round. Sopra, guarda andò. Chi è andorato? Più stretto, signo. Dai a scusare! Passa per sinistro, vai! Sopra, più su, più su, tocca a te. Passa per sinistro, vai da niente. Capito? Alza quel dietro. Chi hanno su la fronte e destra. Sopra! E' sopra! Appassetti, non partiti da lontano, eh! Metti il dietro molto alto, eh! Più scattante, eh, Daniele! Molto da sinistro e dietro sopra. Passa vicino, vai da vicino! Da vicino! Muove, muove, su! Stringi, stringi vedete! Guarda andò lì! Così va, bravo! Allora! Venti! 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 I ghanci o su, lo vanno mettere montate su! Super! Allora, come se... Venti che vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Grazie. 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 Vincere questo incontro per il capo a 2 minuti e 12 secondi nella prima ripresa, Daniele Bucetto Madrucci! Grazie. Grazie.